Allora, quello che mi piacerà fare oggi, insieme tra l'altro, non da solo, è spiegarvi questo concetto. Comunque sia, una vita bella o una vita brutta è un sogno. Qualsiasi realtà io voglio che diventi parte della mia identità, io la posso richiamare ed essa arriva da sola. Se c'è un rischio di quello che potremmo definire New Age è il fatto di andare alla ricerca della spiritualità come metodo di fuga dalla materia e dalla realtà, ovvero ricerco per stare meglio perché non ce la faccio, perché non sto bene. Ecco, questo è la cosa che noi dobbiamo riuscire a cambiare, è la nostra metamorfosi. Una situazione di vita che non vogliamo può accendere il desiderio di dire chi sono io, poi un giorno dovrete diventare voi i sognatori e i registi che dirigono il sogno e si divertono a sognare. Perché quello è il risveglio più ambito, non uscire da questa materialità. Voi potete definire chi siete e cosa realizzare e cosa vivere, lo potete fare, avete questa libertà, una libertà divina concessa a voi. Più ci sono anime offuscate dall'esterno che credono la loro realtà e quindi perdono il loro potenziale e si deprimono, più io porto avanti i miei progetti, se ho dei progetti per esempio di rendere la maggior parte delle persone consumatori. Il consumatore non crea, consuma. Se consuma io guadagno e io realizzo i miei progetti perché fa parte delle mie linee della vita. Tu no, tu soffri. Il punto sapete qual è? È che se tu scegli di liberarti da questo gioco nessuno può fare niente per impedirtelo. Non può fare niente. Neanche Dio se volesse può farlo. La situazione che noi non vogliamo più nel nostro presente, dobbiamo smetterla di osservarla. E questo è pazzesco! Io me ne rendo conto perché non è come ci hanno detto, non è come ci hanno insegnato. Dobbiamo smettere di osservarla. Che addirittura entra anche in leggera collisione con tutto quello che è il percorso dell'alchimia inferior, dove l'osservazione invece dell'emozione negativa, di uno stato d'animo, di una situazione, è il focus principale per trasformarla. Ma dipende da voi. la scelta è vostra. Ci sono vie. E nessuna delle vie è la privilegiata. Però dovete scegliere voi qual è la vostra via. La mia via, dopo pochissimo tempo, ho capito che non era quella della continua osservazione di qualcosa. Cioè ho capito che io ero venuto per fare qualcos'altro. E quel qualcos'altro, nel tempo ho capito che era proprio una via un po' più fuori di testa. Perché non è proprio quella più terrestre. Devi ridere, devi scherzare, devi sdrammatizzare, devi giocare come quando giocavi quando eri piccolo. Se no vieni preso dalla trappola del mondo. Del mondo che ti dice chi devi essere, cosa devi fare, come devi farlo. Sei adulto, hai delle responsabilità, hai dei figli, devi essere così, devi essere così. Devi ritornare a uno stato di leggerezza dove tu sei un'anima libera.